amici di tech different unboxing del moto z play all'interno della confezione di vendita che è questa e che ho già provveduto ad aprire per questioni di comodità troviamo ovviamente lo smartphone questa è la colorazione bianca che ho scelto smartphone che già subito è caratterizzato dalla presenza di questi connettori magnetici in basso che vedremo un pochino più approfonditamente dopo è una back cover compresa all'interno della confezione con un bel effetto satinato piacevole al tatto che va ad agganciarsi in maniera molto semplice alla parte posteriore del telefono e sinceramente ne migliora sicuramente la presa appoggiamo un attimo oltre a questo abbiamo la spelletta per l'apertura della del cassettino che permette l'inserimento di due nano sim e del della micro sd in una piccola confezione contenente manuale un piccolo manuale di istruzioni e la garanzia e le cuffie che sono anche di qualità piuttosto modesta oltre a questo ovviamente abbiamo l'alimentatore da 3 ampere usb type c con il cavo però che è saldato al corpo quindi non è possibile estrarre questo cavo per poi riutilizzarlo con altri dispositivi da un punto di vista estetico ed hardware lo smartphone è caratterizzato da tasto di accensione e spegnimento con effetto zigrinato sulla superficie e bilanciare volume con pulsanti che sono lisci inferiormente troviamo l'ingresso usb testi e l'ingresso per i jack audio lato sinistro che ha pulito superiormente cassettino per l'alloggiamento di due nano sim e di una micro sd che permette l'espansione dello spazio di archiviazione fino al massimo di 2 terabyte e il microfono per la riduzione del rumore ambientale anteriormente flash led capsula auricolari che funge anche da speaker di sistema sensore di luminosità ambientale fotocamera da 5 megapixel dotata di apertura f 2.2 ed obiettivo grande angolare da 85 gradi lo schermo è un super amoled da 5.5 pollici full hd 403 ppi inferiormente sensore delle impronte digitali non è un tasto cliccabile soltanto touch e microfono un secondo microfono abbiamo poi posteriormente il grande corpo della fotocamera da 16 megapixel dotata di apertura f 2.0 con doppio flash led capace di riprendere filmati in 4k 4k 30 frame per secondo e a 1080p sempre a 30 frame per secondo logo motorola e la parte inferiore caratterizzata da una serie di connettori che permettono l'aggancio con i moto moz e con le cover con aggancio magnetico una delle quali abbiamo visto prima e poi abbiamo il terzo microfono il terzo microfono presente su questo smartphone altre caratteristiche ovviamente il sistema operativo che android 6.0.1 il processore che un qualcomm snapdragon 625 octa core con gpu adreno 506 3 gigabyte di ram e 32 gigabyte di spazio di archiviazione espandibile abbiamo già letto con tramite micro sd la batteria non è removibile ovviamente è da 3510 mila ampere con la tecnologia turbo power che secondo i dati forniti a renovo consente nove ore di autonomia con soli 15 minuti di ricarica è presente anche la nfc questo è tutto avremo modo di fare una conoscenza un po più approfondita con questo smartphone nei prossimi giorni per cui state con noi e grazie da tech different 환 grazie a tutti a